Se vuoi osservare meglio con il tuo telescopio, ecco quei trucchi che ho imparato, ma prima sigla! Ciao, io sono Luca e sono youtuber e racconto una stranomia facile per tutti, quindi se vuoi sapere più di questo mondo, ti consiglio di iscriverti al canale. Eccoci qua nel mio giardino e come vedete qui c'è il mio telescopio smontato perché andremo a vedere come si monta e poi come utilizzarlo al meglio nell'osservazione del cielo. Oggi se il tempo lo permette, ma mi sembra proprio di sì, andremo a vedere il sole e mi stavo dimenticando se non avete visto il video dove vi spiego il materiale che serve, il materiale che non dovete usare, E' un consiglio di andare a vedere questo video qua, che trovate il link in descrizione. Prima di tutto bisogna montare la base del telescopio ed è proprio questa qui. Io generalmente la alzo un pochino perché appunto non è, per me è un po' bassa, ma più o meno così andiamo, tanto poi bisognerà metterla in bolla. Poi bisogna mettere questo qui, che è molto utile per me soprattutto perché ci posso mettere gli oculari e tutto il materiale che mi serve. Si monta così, ci sono delle viti che vanno messe al di sotto di queste tre pezzi di metallo e poi si avvitano. E poi l'ultima viti, ci sono tre viti dove altre, sono fatte così le viti, semplici viti da avvitare manualmente, quindi non c'è bisogno del, di qualsiasi altro attrezzo che non le mani. Ed ecco qua, e la base è montata. Ed ora tramite questa livella qui andiamo a mettere in bolla il telescopio. Stavolamente è già quasi in bolla ma bisogna un po' sistemarlo. Abbiamo visto che non è perfettamente in bolla, come facciamo a mettere in bolla? Semplicemente usando queste viti qua, in questo caso mi conviene usare queste vite qua, credo, ma più o meno è uguale. Poi vedete, abbassate, alzate, basta provare. E la messa in bolla è fatta. Ora andiamo a mettere la base del telescopio che è formata da due pezzi. Questa base qui, che sarà appunto a sostenere il telescopio e a farlo girare con i gradi eccetera. Poi abbiamo questo qui che è il contrappeso, ma adesso andiamo con ordine. Qui sotto c'è una vite che ho messo tanti anni fa e mai l'ho tolta. Quindi vi andrò a mettere qui e ad avvitarlo con la vite che appunto c'è qui sotto. Poi, ci serve la bussola in questo punto. Perché? Perché dobbiamo mettere a nord il telescopio. Ovviamente io so già dove il mio nord è, ma vi farò vedere un po'. Allora, abbiamo questa bussola, la mia è una bussola normale e il nord in questo caso è di qua. Quindi, giriamo di qui e facciamo così. Ho già messo il contrappeso, tanto qui basta solo avvitare e fine. Come vedete qui ho messo lo scotch, ma perché ho già trovato la posizione del contrappeso. Ma poi vi spiego come. Ma adesso abbiamo la parte più importante. Cioè, montare il vero e proprio telescopio che scotta da morire. Ed ecco fatto. Abbiamo montato un telescopio. Adesso bisogna mettere in equilibrio il telescopio. Io ovviamente ce l'ho già l'equilibrio perché ho fatto, mi sono messo dei pezzi di scocce sia qui che sul telescopio. Per appunto avere, poi quando smonta e rimonta, avere già, sono sicuro che il telescopio sia in equilibrio. Ma per far diventare in equilibrio basta. Qui ci sono due levette, che una levetta sblocca questo movimento qui e l'altra levetta sblocca questo movimento qui. Adesso bisogna avere questo movimento. Chiudiamo la levetta che, diciamo, sblocca questo movimento qua e teniamo libero a questo. E, se vedete, non è in equilibrio. Se non deve essere in equilibrio si sblocca questo e si va in alto o in basso, ovviamente provando. E si troverà questo equilibrio, questo deve essere proprio fermo. Quando mettete, deve essere anche fermo. Così, perfetto. E qua l'abbiamo fatto. Adesso bisogna mettere in equilibrio questo telescopio qua. Quindi proviamo a vedere se è in equilibrio. Vedete? Facendo così, vedremo appunto se è fermo, vuol dire che è in equilibrio. Se invece non è fermo bisognerà o aprire questi due e o andando verso l'oculare o scendendo verso la base. Però, per me, è in equilibrio. Adesso bisogna mettere a posto il puntatore. Come? Abbiamo questi tre viti che bisogna alzare, bisogna togliere il tappo. Mettere un oculare, aspettate ve lo prendo, da 25 mm e puntare con il telescopio un oggetto che sia almeno 3 metri di distanza, o comunque lontano da noi, puntare con il telescopio e poi queste vittine cercare di posizionare il meglio possibile il puntatore. Perdesci molto tempo su questo perché deve essere molto molto preciso. Così, quando osserverete, avrete poca difficoltà a trovare i corpi celesti. Prima però di iniziare ad osservare, vi consiglio di, soprattutto quando andrete a osservare i corpi celesti molto lontani, di aspettare 10-15 minuti in modo tale che il telescopio si stabilizzi a quella temperatura. Quindi, ci rivedremo fra 10 minuti. Bastati i 10 minuti, adesso andiamo a vedere il sole. Ovviamente io ho un filtro solare, senza di questo non, e dico non, potete vedere con il telescopio il sole. Uno perché vi bruciate gli occhi e davvero è molto pericoloso il sole a questi ingrandimenti. E due perché rischiate di bruciare proprio il telescopio. Quindi, guardate che bello il sole. Queste macchie bianche, nere, scusate che vedete, e appunto sono le macchie solare. Io non ne ho mai viste così tante sul sole. Eh sì, il video è finito, ma noi ci vedremo con un nuovissimo video la prossima settimana. E quindi, ciao!